Ciao a tutti amici di Avoir Magazine, per la video recensione di oggi vi introduciamo un nuovo produttore, stiamo parlando di Novel, che è una società francese che crea e distribuisce custodie in pelle di alta qualità, sia per iDevice che per altri dispositivi. Quello che vi faremo vedere oggi è una stupenda, a mio avviso, custodia per iPad e compatibile sia con il 2 che con il new iPad. Ecco come si presenta una volta aperta la scatola, andiamo a vedere l'interno la custodia. Vi ricordo che gli accessori che fa la Nurev sono di alta qualità, il perché è riportato nell'utilizzo di materiali come verapelle e le cuciture effettuate a mano, a mio avviso anche molto bene. A molti naturalmente non la graderà perché il suo stile è molto semplice, però è una custodia davvero di classe. Per quanto riguarda l'accesso alle porte, adesso naturalmente vedremo l'inserimento dell'iPad, sono ben accessibili. Io ho potuto vederla anche prima se erano presenti ad esempio delle sbagliature sul materiale oppure dei problemi nelle cuciture, magari ve lo faccio vedere meglio, almeno in questa che io ho, non sono presenti difetti, non è presente nessun tipo di difetto. È molto semplice come vedete sulla parte superiore, quindi la parte frontale che vedrete all'inizio, c'è il simbolo della Nurev e non c'è altro. Ma andiamo a vedere quello che ci interessa, quindi l'inserimento dell'iPad. Ecco, dovremo andarlo a inserire prima dal lato superiore e poi dovremo far combaciare tutti quelli che sono gli angoli. Questa parte naturalmente è molto semplice, dovremo naturalmente fare attenzione a farlo agganciare bene in tutti i lati. Ecco qui. Abbiamo agganciato il nostro iPad. Bene ragazzi, se vi piacciono le custodie di classe, di certo la Nurev non passa inosservata. Il suo costo è di 89,99€ e la potete trovare direttamente sul sito dell'Android. Altro da dire su questo custodia è naturalmente va incontro a gusti un pochino, come dire, raffinati, perché non credo che tutti voi vi butterete su una custodia del genere, però abbiamo avuto il piacere e la possibilità di presentarvi e ve l'abbiamo presentata. Per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti! Grazie a tutti!